Amici di TV Vialar, buonasera a tutti, prendiamo la linea dal centrale dell'Emilia de Vialar dove sta andando in scena un match di alto livello fra due mancini terribili abbiamo il generale Sirano dall'altra parte del campo, dalla parte della rete, in maglia scura e che affronta il grande Adrianone Pietro Santovic che potete riconoscere qui sotto per la sua inconfondibile zazzera bionda il risultato del match è 1-0, in questo momento Pietro Santovic ha tenuto il primo servizio con autorevolezza a 0 e addirittura con un ace per cui è partito subito molto motivato e molto convinto di poter fare suo questo patch vediamo il nasuto generale che cosa fa in questo momento spara un gratuito fuori di un metro ed è 30-15 nel secondo game del primo set dall'altra parte sul Susanne Denglen ci sono invece Joao Sergio e Paolo Merdacciarelli che però in questo momento non possiamo coprire per motivi di diritti d'immagine e quindi ci accontenteremo di questi due meravigliosi fenomeni che giocano sul centrale intanto scambio molto combattuto Pietro Santovic a rete pallonetto, vincente, fantastico, bravissimo il generale 40-15 lo scambio senza limiti di colpi i due se ne sono date di santa ragione Pietro Santovic a un certo punto si è misteriosamente palesato a rete cosa che certo non appartiene al suo tennis e infatti è stato un gioco di ragazzi è qui grande tocco, grande palle, uno pari è un match all'insegna della grandissima qualità tecnica i due giocatori mancini ormai con il ritiro di Nadal sono tra i massimi esponenti mondiali a giocare con la sinistra sinceramente non me ne vengono in mente altri comunque uno pari Pietro Santovic è qui con la sua maglietta a fila di Bjornborg vediamo se sarà altrettanto autorevole in questo turno di servizio spara la prima ma si infrangi in rete e la seconda è lunga di mezzo metro per ogni ace si fanno tre doppi falli questa è la regola ne mancano due 0-15 il match tra Merdacciarelli e Joe Sergio non lo copriamo perché comunque è una mattanza il paolo Merd qui una palla corta tentata da Pietro Santovic anche questo insomma non è proprio nelle sue corde normalmente infatti la palla è corta decisamente purtroppo per lui un po' troppo 0-30 attenzione attenzione in generale molto solido sulla sua posizione di risposta buona la prima eh qui la palla rimbalza poco bene ed è 15-30 e c'è da dire che adesso il dritto incrociato di Pietro Santovic che normalmente fa faville sul rovescio degli suoi avversari quest'oggi incontra un dritto di tutto rispetto come quello del canuto generale Sirano noto per le sue dimensioni del naso si lamenta con se stesso si rammarica ma sicuramente la grande umidità di questa serata non aiuta a due calibri tecnici di questo livello noi abbiamo qui David Bryan David Bryan che ci è venuto a trovare in cabina di commento un nuovo eroe del web due calibri sinistri sinistri in vero senso del termine sinistri in tutti i sensi eh David Bryan ha una parola buona per i suoi avversari è il secondo doppio fallo io avevo detto un ace e tre doppio falli quello che fanno parte per me della tribuna contro la tribuna contro i poteri forti sono quelli che remano contro i gemelli Bryan eh lo so ci sono delle correnti come putteggio è uno pari però a break point break point Pietro Santri ci ha fatto già due doppi falli in questo game esatto che ci farà una grande bottata adesso dici? ci farà ridere? si si fa una prima al fulmigotone eh effettivamente è qui ah io l'avevo visto partire in realtà è uscito di poco l'avevo vista decollare invece è uscito di poco il drittone del generale quindi è parità noi salutiamo David Bryan che corre al suo massaggio post match mentre Pietro Santri serve sul 40 pari eh questo è il fantastico rovescio di Pietro Santri che lui sfoggia senza vergogna e la palla finisce fuori di un paio di metri vantaggio esterno nuovamente c'è da dire che Pietro Santri ha coraggio a tentare il rovescio intanto Merdasciarelli viene impallinato sul campo accanto credo che il risultato sia tanto o poco ma magari dopo passeremo a chiederglielo eh il body language di Merdasciarelli è insomma eloquente cioè Sergio non ha pietà comunque vi racconteremo questa storia in un altro momento intanto vediamo Pietro Santri per il break point per il generale eh drittone incrociato carico di spin che toglie il fiato al suo avversario e di nuovo parità ancora pari sì ebbene sì ebbene sì ancora pari buona prima brutta la risposta il generale Sirano si rammarica sta per urlare sta per lanciare la racchetta invece si contiene cerca di ritrovare la concentrazione e questa volta è la palla del 2-1 Pietro Santri e nuovamente una palla a rete sarà il quarto errore di questo tipo fatto in questo game diciamo un game all'insegna dei tanti gratuiti quindi 2-1 Pietro Santri ci siamo on serve in questo momento e proviamo a seguire un attimo Merdasciarelli contro João Sergio intanto Merdasciarelli tira il suo famoso rovescio quello che gli entra una volta ogni due ore e evidentemente fa pure il pugnetto ecco perché evidentemente ormai non ha più nulla da perdere ha tirato a tutto braccio e ha preso la riga di fondo con un bel rovescio che è chiaramente casuale vediamo João Sergio a servizio è lunga la risposta di Merdasciarelli che non riesce a contenere la strepitosa potenza del giocatore il giocatore Italo Carioca con la fascetta tra i capelli Merdasciarelli chiama fuori un servizio che io ho visto sulla linea comunque torniamo sui nostri due fenomeni qui sul campo centrale il generale Sirano serve molto bene Adrianole non si fa intimidire spara una risposta a tutto braccio si infrange a mezza rete 15-0 è decisamente ficcante ed efficace è in servizio del generale vestito da ragno nero questa sera in onore probabilmente non si sa se a Federer o a Merdasciarelli che anche lui ogni tanto viene vestito tutto si è scordato la maglietta questa è la risposta ufficiale della nota stampa dello staff di Sirano 30-0 e finché serve così c'è poca trippa per gatti il servizio di Sirano è molto ficcante è molto angolato poi il rovescio di Pietro Santowicz è quello che conosciamo e quindi è 40-0 ecco appena fatto i complimenti lui spara una prima sul gancio buona la seconda e Pietro Santowicz la butta via così per dire tanto questo game l'ho perso due pari e questa volta è Sirano a tenere con facilità il turno di servizio ancora non si è rotto l'equilibrio tra questi due grandissimi atleti grandi esponenti del tennis sinistro come diceva il buon David Bryan due pari Pietro Santowicz al servizio Sirano molto agressivo lì risponde a tre metri dietro la riga nel campo e vola via il dritto di Sirano che mima il gesto ma la palla esce di una buona spanna 15-0 Sirano attacca sul rovescio di Pietro Santowicz attenzione grande palla attenzione eccezionale eccezionale scatto scatto del generale Sirano che era un riflesso felino riesce comunque a colpire una palla a rete malgrado la deviazione del net cose che devo dire io ho visto fare in passato solo a Roger Federer sarà forse questa tenuta nera che ricorda il Federer 2009 probabilmente lo spirito di Roger si è impossessato del bolso fisico del canuto generale e però lo ha aiutato a portare a casa un punto bello quanto importante tanto Adrianone adrianone madonna sicuramente perché la palla è finita dell'acqua la palla finita del corridoio tra i campi si è bagnata e Pietro Santowicz ha inveito contro buona parte dei santi del paradiso bene bene 15 pari? sì 15 o 15 o 15 o Pietro Santowicz dopo aver fatto un prestigioso testo nel primo turno di servizio poi è tornato sui suoi livelli tradizionali con una prima ogni 35 però qui ci mette la sua il generale che dopo aver portato a casa un punto epocale adesso spara un dritto fuori di 4 metri e questo ha rischiato di costargli anche 15 centesimi di diritti d'autore se fosse andato solo un po' più in là e avesse preso il telone ci sarebbero stati i soldi 15 centesimi per il pippero quindi 30-15 net la temperatura è bassa molto bassa questa sera e anche molto umido per cui questo sicuramente incide sulle prestazioni degli atleti in campo noi sappiamo che questi sono atleti dal talento purissimo battaglia di dritti incrociati scende scende il generale tacca in controtempo un buon dritto incrociato Pietro Santolic se ne accorge si impaurisce e non riesce a tirare la palla di là e quindi è 30 pari qui secondo me l'aggressività del generale potrebbe pagare potrebbe pagare perché comunque ho l'impressione che Pietro Santolic soffra il potente mancino del generale Sirano niente Pietro Santolic potrebbe anche tirare direttamente due seconde tanto la prima non entra mai è qui è molto è riga è riga Pietro Santolic cerca disperatamente un segno fuori ma non lo trova perché la palla ha preso la riga come al solito Pietro Santolic spera di trovare un segno di una scarpa come fa io l'ho vista fuori ma non ne sono sicuro io l'ho vista fuori ma non ne sono sicuro facciamone due senza vergogna la palla era chiaramente sulla linea possiamo anche rivedere nel replay il generale Sirano dall'alto della sua consapevolezza gli dice stai sereno e quindi si rigioca il punto scandalosamente ma comunque sono cose che siamo abituati a vedere e qui e qui la palla profonda di Pietro Santolic non rimbalza probabilmente a dovere e quindi il generale arriva fuori tempo e quindi è vantaggio interno da che doveva essere breakpoint il buon mano lesta Pietro Santolic serve per il 3 a 2 net first service e se la chiama dentro dentro questo era dentro sì sì però in questo caso era molto sicuro invece nella palla precedente che aveva un metro e chiaramente non l'aveva vista bene fur fartello ha messo dentro una prima e tant'è che il generale si sorprende di questo evento più unico che raro e quindi è punto ed è 3 a 2 Pietro Santolic che in un modo o nell'altro più nell'altro che in uno riesce a tenere il servizio e di nuovo quindi siamo sempre on serve nessuno ha fatto il break in questo momento il match è comunque molto equilibrato all'insegna comunque della potenza e della classe sopraffina di questi due grandissimi atleti che sembra insomma siano anche stati in procinto di essere convocati a Malaga per la semifinale di Coppa Davis ma l'abbiano giustamente snobbata perché comunque è un tennis sono manifestazioni di plastica che interessano meno qui gli atleti duri e puri del Bialar si esprimono solo ed esclusivamente nelle condizioni dell'Ettici Bialar che passano dai più 48 gradi del mese di agosto ai meno 12 sempre però con una umidità relativa che oscilla fra il 120 e il 180% come in questo caso questa sera siamo sul 145% Pietro Santo ci risponde con un rovescetto discutibile qui spara il suo rovescio e tanto per cambiare la palla esce lui è coraggioso perché comunque pur rientrando gliene una ogni 35 lui ci prova prima o poi alzerò la mia statistica a 2 su 35 15 0 questo è bello però trova trova il dritto di Sirano molto bello bellissimo e qui è un po' spuntato Pietro Santo che risponde forte incrociato ma trova un signor dritto dall'altra parte della rete e solido sulle sue fondamenta il generale spara un bel dritto incrociato che non ha appello e qui bombardare il rovescio di Pietro Santo è un gioco facile e quindi siamo 40-0 40-0 e qui il generale Sirano ormai si è abituato a tenere il servizio facilmente Pietro Santo ci invece è costretto a cercare ogni strada gemma più o meno legittimo let comunque Pietro Santo ci ci crede la sua posizione di risposta è molto aggressiva palla corta molto bella molto calibrata perché questa mano può essere fero può essere piuma il generale ci ha dimostrato che lui non è solo ruvida e maschia potenza ma è anche come non si gioca non si gioca anche perché lui la prima la mette al contrario di qualcuno con la maglietta fila secondo me farebbe meglio a tirare due seconde direttamente tre pari tre pari il biondo giocatore partenopeo al servizio vediamo se in questo caso riuscirà a tenere con maggiore sicurezza il suo servizio intanto gli entra la prima questo ragazzi è un evento molto bello però è lungo anche questo rovescio e siamo a tre gradi di rovescio nell'arco degli ultimi pochi minuti però lui bisogna dargli atto e ostinatamente circa il rovescio 0,15 e questo è davvero molto bello un rovescio a tutto braccio incrociato del generale Sinanò è un colpo di quelli che insomma resteranno nella storia del tennis perché comunque un rovescio così ad una mano con tanta sicurezza una potenza e una precisione che ben pochi hanno potuto sfoggiare e quindi è 0,30 attenzione 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 0,30 questo è il settimo game del match del set e quindi potrebbe essere tanto Pietro Santic che ha messo due prime per sbaglio adesso tirare fuori nuovamente Pietro Santic è un po' appesantito lo vedo ah e beh questo è vero infatti il generale si mangia il manico dell'archetta perché una seconda sul dritto facile chiede solo di essere spinta in un qualunque angolo del campo il nostro eroico Sirano la tira fuori di due metri quindi si trenta il percentuale delle prime di servizio di Pietro Santic è 9 in questo momento 9% bellissimo questo rovescio in back da vedere e rivedere 30-40 è breakpoint breakpoint quindi come dicevamo il nostro biondo giocatore in maglia bianca ha molte più difficoltà ha 15-40 ha molte più difficoltà a tenere il turno di servizio rispetto al suo avversario quindi adesso sono ben due i breakpoint a disposizione del generale risposta di dritto interlocutori e si sposta sul dritto inside out che trova naturalmente il rovescio di Pietro Santic che fa quello che può cioè mette la racchetta e spera la palla naturalmente finisce ovunque meno che nel campo avversario per cui abbiamo il primo break del match e Silano è 4-3 e andrà a servire tra poco intanto torniamo a vedere qualche istante di mattanza sul campo accanto dove Joe Sergio si è tolto la camiseta e adesso gioca con una maglia arancio mentre Merdacciarelli sfoggia un bellissimo cappellino da neve e palla corta di Joe Sergio Merdacciarelli il body language è abbastanza eloquente lui vorrebbe stare da qualche altra parte in questo momento 12 km all'ora la prima di Merdacciarelli che non supera la rete e Sergio si fa ingolosire si sposta sul dritto e spara fuori va bene torniamo sui due grandissimi atleti giocatori e campioni che sono qui sul centrale si rinoccava al servizio sul 4-3 molto brutto questo rovescio in back ha un quarto d'ora per pensare cosa fare e chiaramente fa la cosa peggiore cioè tira fuori una palletta a mezza rete 0-15 0-15 è bello è un errore che da Pietro santo dice non ci saremmo aspettati perché è un gratuito di dritto a rete in un momento chiave del match davvero un giocatore del suo calibro e della sua forza mentale insomma non dovrebbe farli comunque 15 pari quanto state? 6-2-1-0 per Joe Sergio intanto bellissimo il doppio fallo di Sirano che dopo che Pietro santo ci gli ha detto sul servizio del generale non si gioca non ha più messo una prima è così è così 15-30 attenzione perché potremmo anche potrebbe anche profilarsi un contro break 15-30 buona la prima ma sul dritto di Pietro santo che adesso scende in rete e chiaramente pallonetto o addettura contro pallonetto terribile per voler e questa è molto bella questa è molto bella un po' fortunata tanto brutta la voler di rovescio quanto diciamo efficace dai diamogli onore al merito al generale efficace che la voler di dritto che porta il risultato sul 30 pari e Pietro santo in rete viene regolarmente uccellato con pallonetti passanti vari è molto bello molto bello per quanto sul dritto di Pietro santo questo rimane fermo a guardare la palla perché comunque la strepitosa potenza del canuto giocatore in maglia nera ragazzi insomma braccia quelle di del generale e di pochi altri che chiedono il porto d'armi e qui è fortunello fortunello Pietro santo spara il suo dritto incerto che però sfiora il net e diventa ingiocabile quindi è parità nuovamente ottima risposta il generale si difende meglio del suo avversario di rovescio Pietro santo ha il pallino dello scambio e in questo momento ha ragione lui e mette una palla molto profonda che schizza vicino alla riga di fondo il generale per quanto si fosse difeso egregiamente durante lo scambio è sempre stato in apnea e qui poteva solo sperare in un gratuito del biondo giocatore partenopeo e quindi abbiamo il break point attenzione palla del contro break palla del quattro pari è un match che è destinato all'equilibrio più totale intanto abbiamo una seconda e Pietro santo ci regala un dritto fuori di due metri sul seconda abbordabile del generale io ho notato peraltro che entrambi i giocatori con grandissima sagacia tattica servono entrambi regolarmente sul dritto dell'avversario questa è insomma una nota che va segnalata molto bello e qui strappa il rovescio dice che è brutto e in effetti in effetti come dargli torto è una delle cose più brutte che abbiamo visto nelle ultime settimane questo rovescio strappato e qui tutti pensano di essere poverinca ragazzi ma sì è bene sì vantaggio esterno secondo il break point la prima non entra il piede sì durante il servizio ma facciamo finta di non averlo visto Pietro santo risponde in contenimento rovescetto stitico rovescetto altrettanto stitico i due giocano sulla diagonale di rovescio tirando a una velocità che è una frazione di quella che usano per giocare di dritto finché Pietro santo spara uno dei suoi terrificanti dritti in back sul gancio della rete per cui è nuovamente parità intanto Merdacciarelli controlla le corde della sua racchetta cercando di trovare qualche motivo per dare la colpa ad altro che non che non ha se stesso per questo risultato parità oh è qui finalmente un bel servizio esterno il generale fa il pugnetto chiaramente un servizio esterno che trova il rovescio di Pietro santo è il più delle volte destinato al punto ma è chiaro che ecco un altro servizio sul rovescio e guarda a caso Pietro santo ci tira fuori ma dai incredibile fosse che il generale mi ha sentito mi ha sentito di servire sul rovescio l'avversario no non mi ha sentito siccome non è bravo spara a casaccio in questo caso gli sono uscite sul rovescio abbiamo capito è come Pietro santo che lui ha ammesso candidamente di tirare il servizio in un punto qualunque del rettangolo di battuta che non decide lui ma la sorte quindi è 5-3 il generale tiene il servizio e con qualche patena madame o in più rispetto al solito però si porta consolida il suo break e quindi Pietro santo ci serve per restare nel set ti muovi come un elefante e qui ogni tanto hanno degli sprazzi di lucidità perché le cose qui è vero che da fuori è tutto più facile si vede tutto più chiaramente ma insomma queste manifestazioni di autoconsapevolezza sono comunque importanti perché dimostrano che c'è lucidità ancora 0-15 cioè 15-0 scusate e la palla rimbalza male la palla rimbalza male ed è 30-0 la palla schizza sul terreno umido in generale la stecca non riesce a farlo superare la rete si mette le mani sui fianchi in posa ducesca ma serve a poco perché comunque è 30-0 e anche qui la palla non rimbalza abbastanza alta e qui in generale non si piega perché naturalmente ha le articolazioni un po' arrugidite e quindi la palla finisce in rete 40-0 ma d'altronde al generale interessa soprattutto mantenere il prossimo turno di servizio 40-0 e Pietro Santic potrebbe avere un giro facile in questo turno di servizio tanto 40-0 e questa è fuori è quando si gioca sul rovescio per entrambi c'è poco da fare 5-4 comunque intanto il generale andrà a servire per il set tra qualche istante vediamo Merdacciarelli ha tirato una prima a 12 all'ora è un fantastico doppio fallo di stile impeccabile impeccabile questo doppio fallo di Merdacciarelli che ci sembra un po' scorato nel suo body language e vabbè torniamo sui nostri due grandi atleti sul centrale si rano al servizio per portare a casa il primo set vediamo se Pietro Santic glielo permetterà tanto la prima non entra è qui quando il momento è topico il braccio trema finalmente serve ancora sul rovescio attacca in back e out out era buono lo schema era buono lo schema un attacco in back sul rovescio dell'avversario seguito a rete ma la vuole di dritto abbastanza facile esce di una buona spanna e quindi 0,15 e qui Pietro Santic a prendere in mano il pallino dello scambio si tocca la testa per dire quando sono concentrato non ce n'è per nessuno e lui è consapevole della sua grandissima forza mentale insomma e quindi è 0,30 attenzione da che il generale aveva sempre tenuto con brevativa facilità i suoi turni di servizio in questo momento ha più difficoltà intanto grande risposta di Pietro Santic che spara dritti senza un domani come se non ci fosse un domani questa è una palla corta abbastanza terrificante e il generale non sbaglia un colpo importante un colpo importante era uscita da una palla corta che insomma non so che parole usare per non essere bippato ma comunque lasciamo per andiamo oltre 15,30 e qui la palla rimbalza sulla linea e Pietro Santic va un attimo fuori giri e tira fuori il suo dritto 30 pari 30 pari per cui a questo punto attenzione a questo punto il generale Sirano è a due punti dal set non forza la prima e ha ragione ha ragione perché Pietro Santic anche qui un po' si fa sorprendere da da una palla meno incisiva del solito e quindi è 40-30 attenzione set point set point Sirano molto infastidito da questo colpo Pietro Santic e qui la prima esce di un metro e mezzo e beh e beh e beh coraggiosamente lui tenta ecco la roulette Pietro Santic il rovescio è alla roulette una volta su 36 esce il numero che su cui hai puntato solo esce così certo farlo sul set point non è proprio il massimo insomma onore a coraggio di Pietro Santic e quindi 6-4 vince il primo set Sirano non si fermano i due perché comunque fa freddo se si fermassero probabilmente rimarrebbero incriccati per cui decidono comunque di prendere subito il gioco bene amici di Vuvialar noi lasciamo la linea alla regia il match continuerà in diretta streaming per gli utenti pay mentre gli iscritti al canale per gli iscritti al canale è l'appuntamento al prossimo grandissimo tennis di Vuvialar vedremo che cosa ci riserverà questo weekend Pietro Santic spara fuori il primo dritto del secondo set ed è subito 0-15 vediamo ancora qualche scampolo e poi vi salutiamo Sirano martella il rovescio di Pietro Santo e ci scende a rete vuole di dritto e seconda vuole inguardabile diciamo che allora a questo punto è il miglior modo per potervi salutare la degna conclusione di questo terrificante set fra questi due grandi campioni e noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima a tutti ciao e a presto grazie a tutti